Ho belle notizie Oh finalmente delle belle notizie ragazzi Mamma mia dai vai spare che sono curioso Sono riuscito ad andare al bagno ben due volte Ah bella notizia da merda Eh vabbè dai per essere una bella notizia quindi è da tempo che non andavi in bagno Dopo ben tre giorni sono riuscito ad evacuare il mio intestino E' stata... è stato così liberato Stucca! Cioè dopo tre giorni è evacuato il tuo intestino Quindi stavo proprio chinecchino da merda Due volte di cui la seconda Mamma mia duca Spero di aver placato i vostri desideri nel saperlo Sì sì meno male che me l'hai detto Qui vedi non si parlava d'altro Ma Martino quando va a fare la cacca Ma Martino io penso che non dormivo più la notte a pensare Non augurerei nemmeno il mio peggior nemico di essere stitico E' una tortura No no ma infatti anch'io no no la stitichezza non gliel'augro il mio peggior nemico Ma una bella emorroidi so Sì l'emorroidi so la stitichezza no E' troppo crudile E' troppo crudile